oggi prepariamo pappardelle coi funghi porcini salcicce e panna ho tagliato a strisce sottili i due funghi porcini congelati sbriciola sbricioliamo la salsiccia prendiamo una padellina bassa aggiungiamo mezzo aglio mezzo spicchio d'aglio accendiamo mettiamo all'interno la nostra bella salsiccetta non aggiungiamo sale perché ovviamente come tutti ben sappiamo nella salsiccia il sale già c'è facciamo rosolare un pochettino aggiungiamo i funghi facciamo sì che il sapore dei funghi e della salsiccia si mescolino il sale non lo aggiungo anche se ho messo i funghi perché potrei rischiare di rovinare tutto facendo diventare il sughetto salatissimo copriamo facciamo cuocere dieci minuti passati dieci minuti che profumo si sprigiona adesso non resta altro che versare mezza confezione non tutta perché è solo una salsiccia dopo nemmeno dieci minuti il nostro sughetto è pronto ora accendiamo l'acqua che è già un salato e portiamola ad ebollizione abbiamo colato la pasta ho messo tre cucchiai di sugo facciamo amalgamare il tutto la pasta ho tolta bella al dente ed ecco il nostro piattone di pappardelle al sugo di salcicce funghi porcini e panna io li mangio così ma se a voi piace potete aggiungere il parmigiano reggiano una grattatina a me piace il gusto così com'è vi saluto prima che si freddino buon appetito alla prossima facile ricetta ciao ciao